Ha detto prima che ci godiamo queste due partite, adesso se le guarderà entrambe con grande attenzione perché c'è voglia di festeggiare questa salvezza. Sì, speriamo che ci vada bene, come abbiamo già detto. Era importante oggi fare il nostro, anche soffrendo alla fine, però ce l'abbiamo fatta e complimenti a tutti. Quanto avete lavorato sulle palli inattive? Perché è un dato che fino a qualche settimana fa era zero, adesso l'Udinese ne ha quattro a suo favore. No, si è migliorato, abbiamo lavorato, come ha detto lei, perché una squadra così con grande fisicità non era giusto che non facesse gol. E poi alla fine questi gol sono verificati come decisivi e ci fa piacere. Nello spogliatoio chiaramente a metà tempo immagino ci fosse grande soddisfazione. Dopo questa sofferenza del secondo tempo ha tirato le orecchie oppure andava così tanto bene la vittoria che ha lasciato perdere? Sì, no, io veramente mi sono arrabbiato tanto anche perché io ribadisco dal primo giorno e anche oggi intervallo che il calcio cambia tutto in cinque minuti. Perché è così? Un gol, due gol, poi io sono andato forte anche intervallo parlando di questo e poi è successo quello che è successo. Ci può stare perché anche tensione di ultima partita a casa, sono sempre partite particolari che magari gambe non vanno come passaggio uno perché c'è questa pressione. Però va bene, siamo contenti e speriamo, come ho detto, queste due partite che siano cose belle per noi. Grazie. Grazie.